Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale Allora, oggi sono da sola perché i bimbi sono andati all'asilo e arriveranno per l'una e mezza perciò, visto che abbiamo tanto tempo libero, ci mettiamo a fare un po' di pulizie tranquilli Iniziamo con le tende ad aprire tutto e dopo passiamo pian piano alle altre cose Grazie 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 a tutti. 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 Grazie a tutti.